Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Sims 4 Torniamo nella nostra famiglia nuova che si è appena creata, quella con tutti gli adolescenti del campus E ricominciamo dalla nostra Erika che come avete visto nello scorso episodio ha litigato con il padre, ha cambiato casa, ha cambiato vita E finalmente in questo episodio vediamo insieme le percentuali del sondaggio e decidiamo insieme con chi farla fidanzare Per prima cosa ragazzi vedete tantissime novità nella casa perché come vi avevo detto ho deciso di modificarlo un po' off camera Ho anche modificato il look di tutti i suoi componenti quindi di tutti i ragazzi Ma come vedete ci sono degli oggetti nuovi che sono stati aggiunti con un nuovo aggiornamento Quindi per prima cosa voglio fare una piccolissima recensione di questo aggiornamento Andando qua e mettendo come filtro il pack delle festività perché è stato aggiunto appunto una festività E' stato aggiunto un po' di roba per quanto riguarda una festività che dovrebbe chiamarsi Eccola qua praticamente si chiama il festeggiamento del Diwali e vi faccio vedere un po' i nuovi oggetti Abbiamo infatti tre nuovi tappeti, uno è questo, l'ho anche messo qua in cucina Eccolo qua, lo troviamo sempre in varie colorazioni Sto praticamente facendo una piccolissima recensione Abbiamo poi quest'altro tappeto, anche questo lo troviamo in vari colori Guardate un po' tutte le fantasie da qua giù E questo è il secondo tappeto Terzo tappeto invece è questa sorta di piccolo pavone Che dovrebbe anche cambiare forma No, in realtà cambia solo di colore Guardate un po', ci sono pavoni di tutti i colori Molto bene Abbiamo poi queste lampadine Una l'ho già utilizzata qua in ingresso Mentre poi abbiamo queste un pochino più piccole Un pochino più lunghe Un pochino più normali Eccole qua Queste invece le troviamo solo di questo colore ragazzi Abbiamo poi questa cosa che si chiama DIA Ed è praticamente una lampada olio Che possiamo anche mettere nella nostra cucina Dai, eccola qua È abbastanza carina e anche questa la troviamo in vari colori Magari questa la mettiamo azzurra Così riprende un po' la cucina Abbiamo poi queste che sono molto belle Secondo me, sono delle candele Per la precisione sono nove candele Che non so bene dove si possono posizionare Perché io ho visto solo gli oggetti Ma non li ho ancora utilizzati Non ci ho ancora giocato Però li possiamo mettere ad esempio anche nel pavimento Ora giusto per vederli E non hanno altri colori Quindi le troviamo solo in questi colori Possibile? In realtà no Ecco, avevo failato il comando Invece li troviamo in tutti i vari colori Per il resto dalla modalità Compre e costruisci non abbiamo più nulla Quindi direi che possiamo andare in Crea un sim E ci andiamo direttamente con la nostra Erika Quindi possiamo fare anche un bel Cerca di calmarti Modifica vari abiti Anzi no Aspettate ho detto di provarli In realtà ecco Vorrei modificare il sim Così almeno vediamo Quello che è stato aggiunto anche in Crea un sim Quindi partendo dai capelli Vi voglio far vedere che è stata aggiunta Una nuova acconciatura Per adulti Ci sono anche delle cose per bambini Ad esempio la nuova acconciatura è questa Come vedete Ha queste sorte di piccoli fermagli Un po' particolare Ora ovviamente torniamo indietro Perché non ci interessa Quindi torniamo un attimo indietro E' stato anche aggiunto Un abito lungo Quindi se mettiamo sempre il filtro Lo possiamo vedere Ed è questo Anche questo in vari colori Lo possiamo abbinare Con qualsiasi cosa vogliamo A me piace molto Particolare devo dire E poi per il resto Credo non ci sia altro Ora voglio un po' capire Intanto metto il filtro E guardo insieme a voi Se è stato aggiunto qualcosa Non credo Perché ho letto il changelog Infatti ragazzi Ricordavo bene Ricordo però che ci sono Delle cose da uomo E non credo però che siano capelli Quindi ora guardiamo insieme Credo ci sia qualche oggetto O meglio qualche vestito Vediamo un po' Infatti i capelli Non ce ne sono Ma ricordo bene Che c'è un vestito Un abito intero Sempre legato alle festività E dovrebbe essere questo Come vedete Lo abbiamo sempre in vari colori E poi ci sono anche Un vestito lungo Se non ricordo male Per bambini Quindi in realtà È stato aggiunto poco Però qualcosa gratis Quindi GG Ma torniamo a noi E a questo Trentaquattresimo episodio E sì che sto facendo Il countdown Perché manca poco Al trentanovesimo Ne mancano solo cinque Vuol dire che fra due settimane Abbiamo gli animali Ma non credo di arrivarci Perché come vedete La nostra Erika È bella bella disperata Tanto che decise di Darsi una bella botta Di vitalità Con il telefono Quindi facendosi un selfie Chi non lo farebbe Quindi in realtà ragazzi C'è tantissimo Tantissimo da fare Prima che arrivino gli animali Però vi voglio far vedere Intanto come ho modificato La casa Intanto questa stanza L'ho lasciata praticamente invariata Non l'ho modificata Per niente Il bagno che c'era qua Invece l'ho modificato Ho fatto una piccola cabina Armadio Perché ho deciso Di fare il passaggio La porta dalla cucina Che va direttamente A questa camera da letto Cucina che è completamente diversa Come vedete Utilizza i toni dell'azzurro È molto molto colorata Molto molto giovanile E ho deciso di fare La sala da pranzo In questo modo Ovvero con un pilastro Con queste belle lampade E tutto attorno Tutte le sedie Abbiamo poi qua Una zona living Quindi la zona salotto Con maggiordoma annessa Eccola qua Abbiamo un pc E da questa parte Ho ricavato il secondo bagno L'ho fatto un pochino più grande Sempre nello stesso stile Di questo Che mi piaceva abbastanza E per quanto riguarda le camere Devo dire che non ho modificato nulla In realtà ho solo spostato i letti Dalla parte opposta Quindi in realtà Ho solo modificato un po' La disposizione Ma per il resto Ho lasciato tutto come era E ora parliamo Del nostro sondaggio Perché la maggioranza di voi E vi ringrazio per aver votato Ha deciso che la nostra Erika Si fidanzerà E probabilmente avrà una famiglia Con il nostro Manuel Significa che Alberto Lo dobbiamo licenziare In qualche modo E vedremo un po' Come fare Perché non voglio fare Una scelta drastica Subito Ora nell'episodio Ma pian piano Che lo giocheremo Magari faremo Delle situazioni Un po' particolari In modo tale Che poi ci sarà la scelta In tutto ciò C'è qualcuno Che è bello infuriato E nello specifico È la nostra Aspettate che riprenda il nome Marta Gentile E ora vi faccio vedere Anche i look Perché come vi avevo detto Volevo modificare anche i look Dei ragazzi Questa è la nostra Marta Non modificata davvero poco Cambiatole la pettinatura E basta Non credo il trucco Non ricordo E un po' i vestiti Mentre credo Il cambiamento più grande È quello di Sara Rinaldi Che è molto molto triste Probabilmente non ha accettato Questi ricci Che li ho messo Non so perché Guardate un po' quanto è triste E questa è la nostra Sara Ora voglio anche fare Un bel cambio d'abito Così vi faccio vedere Gli abiti quotidiani Eccoli qua Mi piace molto Ho cambiato anche il look Al nostro Vincenzo Come vedete Un pochino più sportivo Un pochino più giovanile Stessa cosa Si può dire Per gli abiti Del nostro Alberto Non ho modificato il suo look Ma ho modificato i suoi abiti Ora ve li faccio vedere Quindi facciamo Un bel abiti Cambia abito E mettiamoci gli abiti quotidiani Questi credo di averli rilasciati Però com'erano Forse lui è l'unico Che non ho modificato Sapete E per quanto riguarda Il nostro Manuel Anche lui Ho cambiato un po' il look Come vedete Un look un pochino più particolare Che abbiamo visto anche Nel Creon Sim Inutile dirvi ragazzi Che gestire Se ragazzi È praticamente impossibile Sono tesi Sono arrabbiati Sono tristi Poi sono felici Poi sono energici Poi sono tesi Insomma è un vero e proprio delirio Tanto che lei Sul punto di scoppiare Per aver avuto uno sbalzo di umore Tutto questo stress Mi porterà ad esplodere No Più ci penso E più mi stresso Ok Questa qua Voleva andarsene via di casa E via Che l'abbiamo accontentata Nello scorso episodio Appunto Ho fatto anche litigare Lei con suo padre Per mandarla via Ora non si trova bene Neanche qua Devo dire che la nostra ricca È abbastanza incontentabile Se posso dirla tutta Ma In qualche modo Cercheremo di dargli un po' di pace È sempre uno scorso episodio ragazzi Però abbiamo visto qualcosa Nascere Seppur poco E credo proprio che andrò Su questa linea Ovviamente fatemi sapere Cosa ne pensate nei commenti Perché si possono modificare le coppie Anche nei prossimi episodi Ma io vedo molto molto bene Marta e Vincenzo Insieme Secondo me stanno bene Quindi io proverei Intanto ad inciuciare Loro due Quindi flirtiamo Ci vediamo un po' di sistemare E fare la prima coppia Del nostro campus Ovviamente poi li farò crescere Quando crescerà Erika E probabilmente li farò sposare Dopo che Erika Sarà sposata E magari faremo anche fare Dei bambini Alla nostra Marta Alla nostra Sara In modo tale Da avere un po' di bambinetti Nuovi su The Sims 4 Anche se non giocheremo Come vi ho sempre detto Attivamente con la famiglia In tutto ciò però Loro chiacchierano Le sta bene Quindi io andrei Di complimento sincero E complimenti per il petto Della ragazza Solo ora noto Che è bella bella fornita Se posso permettermi È il che credo Proprio distragga Il nostro Vincenzo Dal parlare Spero che stia guardando Gli occhi Della nostra Sara Marta scusatemi Ecco anche io Mi sono distratto Va bene E qua abbiamo Un bel piatto Di Wustel E fagioli Che probabilmente È eccellente E allo stesso tempo Ragazzi Credo diventerà avariato Fra qualche ora Vediamo un po' Fra otto ore E credo sia arrivato Il momento Di fare una bella gara Di peti Nella nostra casa Credo Perché cammina così Salve Che venite a tavola Ma allora Che cos'ha questa ragazza Allora Che bell'aspetto Ti senti molto attraente Dopo aver provato Tutti quegli abiti Va bene Per aver sbagliato L'interazione prima Poi abbiamo anche Un bel arredamento gradevole Che ci piace E guardateli un po' Che tutti vanno A mangiare Nella sala da pranzo Un po' strana Che ho messo Sala da pranzo Che ha 5 sedie su 6 Probabilmente Sì Ora che sto notando Abbiamo 2, 3, 4, 5 E quindi uno deve mangiare in piedi Nello specifico è Manuel Potremmo aggiungere Un'altra sedia Da qualche parte Ma in realtà Poi avremo Un passaggio Un pochino brutto Per quanto riguarda Raggiungere il salotto Quindi faranno i turni Quindi Fintanto che loro mangiano E lei è sempre più tesa Io proverei comunque A sfogarmi con lui Chiacchierare con lui Quindi rallegriamolo E in realtà Avremo bisogno noi Di essere rallegrati Ma sono dettagli Facciamo un bel amichevole Che è della sua giornata Per farlo si deve alzare Non capisco perché Possiamo spettacolare Insomma Cerchiamo di rendere Tranquilla la nostra Erika Perché Davvero è sul punto Di scoppiare E solo che ci penso Che davanti a lei Ci sarà una famiglia Bella Eccetera eccetera Tanti progetti per lei Probabilmente Mi passa la voglia Se la vedo così Bella tesa Guardatela un po' È pazza Questa ragazza È pazza Un po' come tutti i sim Che contraddistinguono la mia serie Quindi non me ne stupisco troppo Ma Vorrei avere qualcuno di normale Se riusciamo Infatti ce la facciamo E guardate un po' la loro relazione Ragazzi Scappatella no Rallegrano c'è lui davanti Quindi cerchiamo di fare le cose Con un po' di furbizia Se riusciamo Intanto lei però Doveva farsi il fidanzato Grazie Eccolo qua Benissimo Flirtate voi due Salve Ciao Fa così Va bene Piaccherano Si sorridono Ralliriamo Complimento sincero Si Facciamo anche un altro Bel flirta Sia mai che Con l'autonomia totale Probabilmente vedendo loro Anche a Erika o anche agli altri due Venga in mente di flirtare Rovinare tutti i nostri piani Tra cui il sondaggio E saremo tutti Molto molto fregati Io non capisco come Possano poi Mettersi tutti a ridere Quando stanno Praticamente Petando a turno Ecco ha petato appena lui Appena lui Di là dietro Lei peta Lei peta Insomma Tira proprio una brutta aria Nel nostro salotto Credo proprio sia arrivato il momento Di uscire tutti insieme Anche per far Come dire Cambiare aria alla casa Quindi vi invito Colorosamente ragazze Ad aprire le finestre Prima di andare via Perché altrimenti Scapperà il morto E ne sono più che sicuro Dove andiamo di bello? Intanto Iniziamo un raduno Così almeno sono tutti già In un gruppo Così almeno non devo fare il gruppo Ogni volta E dove andiamo di bello? Non saprei Potremmo anche andare Magari in un locale notturno Perché no? Potremmo anche andare a ballare Tutti insieme Quindi Questo è pianeta Karapop? No Magari andiamo a Winterburg Perché se non ricordo male Là c'erano i locali notturni E nello specifico Dovrebbe esserci qualcosa qua Tipo Discoteca Paneuropa Quindi andiamoci E siamo arrivati Gli amici del campus Arrivano alla discoteca Paneuropa Che ha il DJ Quindi andiamo qua E facciamo un bel ballo insieme E poi facciamo anche un bel ballo di gruppo Anche perché possiamo aspettare Che arrivi qualche altro sim Possiamo fare Degli screen carini Di loro che ballano Infatti guardate un po' Arrivano già tutti quelli Del Baldori House Se non ricordo male No in realtà sono I console della console Va bene Acquisiscono tutti Le abilità di ballo Intanto Che ballano appunto Oh Le non mi sembra Che sia la prima volta Guardate un po' Sara Rinaldi È scatenatissima Tanto che si sa Quando si va a ballare Un po' Scatta anche Quel non so che Di romanticismo Extra Barzelletta Orribile Barzelletta Usata come arma No Evor incanta Ammaliare qualcuno Lo renderà Flirtante E ragazzi Che me lo chiedete a fare Perfetto La nostra Sara La nostra Marta Non imparerò mai I nomi La nostra Marta Si butta giù Sul pesante Vuole davvero Ammaliare Il nostro Vincenzo Eccolo qua Che scocca la freccia Di Cupido E lo fa diventare Flirtante Lui si tocca il petto Sembra che in realtà Stia pregando Per essere in qualunque Altro posto Tranne che qua Invece diventa Molto molto flirtante E allora Già che ci siamo Facciamo una bella Barzelletta Per flirtare E se stiamo in diretta Così alla nascita Di una nuova coppia Mi sembra anche il minimo Eccoli qua Lui è praticamente Molto flirtante E incredulo Di ciò che sta succedendo Ma lo so io Lo so proprio io E abbiamo già sbloccato Il primo bacio Tanto che lo facciamo In pista Davanti a tutti Benissimo Passo dopo passo Un po' come un ballo Stanno andando bene Le cose fra loro due Credo proprio Che la prima coppia Del campus Sia bella consolidata Se lui accetta Ma in realtà È molto flirtante L'idea Che siamo stati noi Con la freccia di Cupido Quindi in realtà L'abbiamo indotto Ad esserlo Passerà in secondo piano È tutto molto Molto spontaneo E a questo punto Loro possono baciarsi Possono fidanzarsi Sì abbiamo praticamente Creato una nuova coppia Sì chiediamo di diventare Il fidanzato Mi sembra il minimo E davvero ragazzi Loro due mi piacciono Davvero molto insieme Non so che ne pensate voi Ovviamente Mi invito a farmelo sapere Nei commenti Ma secondo me Stanno bene Probabilmente lui invece Sta molto peggio di noi Perché guardate un po' Quanto è strano Mentre balla Sta dando spettacolo Il nostro sim E no però Mi stai rubando La scena Quindi per favore Puoi anche Presentazione allegra No vai qui insieme No perché non possiamo Ballarci perché ci sta Ballando lui Io vi ricordo che c'è Un'altra pista qua sotto Occupata da lei Che balla senza la musica Perché questo robo È spento Quindi siamo messi male Lui è un po' strano Senza il dj anche lui L'altra è un po' strana E non possiamo ballare Semplicemente perché Non ci sono più dj Quindi in realtà Guardate un po' Lo spettacolo La maggioretta Si è attivata Eccola qua E in tutto ciò Sono le 5.09 di martedì E vi ricordo che Stasera la nostra Erika dovrà essere Bella bella pimpante Perché andrà Il primo giorno di lavoro E lui intanto Da spettacolo Sempre di più Molto molto bene Guardatevi un po' Che loro assistono A questa stranezza Ma direi che abbiamo Passato una bella notte brava Torniamo a casa Con una nuova coppia Formata E torniamo a casa Anche perché loro Devono andare a scuola Quindi in realtà Ricordiamoci che sono Adolescenti Seppur non lo sembrano più Ragazzi Torniamo a casa Pronti per andare a scuola Spero di sì Intanto possiamo Anche non iniziare Il raduno Controllavo Lei intanto Passa le dita Sul tavolo Per capire Se ciò che deve fare lei Ovvero pulire Viene fatto nel modo giusto Quindi in realtà Ti assumi le responsabilità Cara la mia Simpaticissima Ora non ricordo il tuo nome Di Ia Joyson Assolutamente Maggiordomo di fiducia La nostra donna Come dire Un po' la baglia Un po' la mamma Di questi ragazzi Che vi ricordo Sono tutti adolescenti E 5 su 6 Non hanno neanche i genitori Mentre l'unica che ce li ha In pratica È Ferricorti Quindi in realtà È praticamente Una storia molto molto brutta Se ci pensiamo Abbastanza triste Ma Pian piano Vedrete che Tutto si sistemerà In un certo modo Perché ho già Scandito un po' La trama Mettiamola così Dei prossimi episodi Quindi spero vi piaceranno In tutto ciò Lei è molto flertante Benissimo Io a questo punto Sapete cosa Tanto abbiamo una cameretta Matrimoniale L'ho lasciata apposta Quindi facciamo Che diventare la fidanzata Oh In diretta Guardate un po' loro Quanto sono felici per loro Li ignorano Come giusto che sia Sono diventata Benissimo La fidanzata Facciamo un bel bacio La loro relazione È molto molto alta Che che se ne dica Le applaude Guardate un po' Che la nostra Erika È l'unica Che un po' È interessata Scappatella Assolutamente sì Vi ho lasciato la camera Ciao ragazzi È stato bello vedervi Ciao ciao E letto a baldacchino Si muove per noi Con tanto di cuiricini Loro stanno facendo La scappatella Spero anche Che sia scappata L'aria dei viust E dei fagioli Che abbiamo lasciato Stamattina Quindi per precauzione Io questi Li rimetterei Anche in frigo Se posso No Non li posso mettere Neanche in frigo Possiamo impacchettarli Al sacco Sapete cosa Anzi Lo facciamo fare Magari a lei Visto che non ha Niente da fare E ci riportiamo A scuola In modo tale Che assolutamente Facciamo anche fuori Mezza classe E siamo tutti più tranquilli Quindi lei ha messo Il pacchetto in frigo No aprilo Aprilo E mangiatelo a scuola Assolutamente Voglio che tutti Andiate a scuola Con i viustri e i fagioli In modo tale Che tutti veniate Anche espulsi Dalla scuola No io vorrei fare Però un bel pacchetto Possiamo farlo Sì eccolo qua Lo diamo ad Alberto E pace all'anima tua Tanta affare da guardia A casa nostra C'è la maggiordoma Guardate un po' Non si muove un capello Se posso dirla tutta E devono andare a scuola Tutti Quindi per favore Andate tutti a scuola Studiatemi sodo Come se non ci fossero domani E per favore Dei simi squadro Non bloccarti così Perché ogni volta E anzi Ogni tanto si frizza Ok sei sbloccato Sei sbloccato Sono tutti a scuola Ora probabilmente Il tempo dovrebbe anche Scorrere più velocemente Ma non credo Succederà per colpa Tra virgolette Del nostro maggiordomo In aiuto In amicizia Un amico di Erika Non ha studiato Per l'esame di oggi Visto che Erika L'ha già fatto Nella prima sessione E si ricorda le domande Potrebbe tranquillamente Passare le risposte Deve farlo E è meglio che l'amico Se la cavi da solo Vediamo un po' Io condividi le risposte Non aiutare Non aiutare Facciamoli Simpatici Per non dire altro Uh E lo Smanet Show È in città Io sinceramente Ci andrei Sapete che Se resta Almeno Fino a quando loro Tornano da scuola Magari ci andiamo Visto che alle fiere Non ci partecipiamo Poi tanto spesso E vorrei andarci Quindi aspettiamo Spero di poterlo fare In teoria Dovremmo poterlo fare Lì si dovrebbe anche divertire Va a lavoro fra 8 ore E però lei torna Aspettate Torna Alle 15 Quindi avremo Praticamente 2 ore Abbiamo 24 ore Per pagare le bollette Salve Che sta facendo Il nostro Edoardo È arrabbiato Sbatte sulla porta Perfetto Super Mario Dei poveri Guardate È tornato È tornato Super Mario E scompare E poi torna Poi scompare Poi ritorna Poi scompare Insomma un Super Mario Odyssey Davvero Oh finalmente Sono tornati da scuola Manuel deve Invitare a casa Il proprio compagno Di classe Malcom Ma si dai Era anche una bella serie Come sono arrivati a casa Lo sanno solo loro Intanto io Pagherei l'affitto Va bene va bene E direi alla nostra Erika Di andare un pochino in giro Nello specifico Vorrei andare al Manet Show Allo Smanet Show Quindi leggiamo Il messaggio Anzi leggiamo sul festival Così lo raggiungiamo Eccolo qua Raggiungi lo Smanet Show E ci andiamo Con il nostro Simpaticissimo Manuel Sala E siamo arrivati Manuel ti incontrerà lì Buona sapersi Ora Lo Smanet Show Dobbiamo un po' capire Come funziona Quindi Salve signor Dark Fener Come sta? Ora Lei è stanca E bipolare Ce li ha tutte Ma voglio un po' Partecipare Quindi come si fa? Vediamo un attimo Perché non ricordo bene Come funzionano tutti I festival Oh possiamo intanto Partecipare Credo No blocco bleak No Dovremmo Credo prima Come dire Fare un'iscrizione Se non ricordo male Vediamo un po' Come funziona Qua dovrebbe esserci La notifica Anche no Il festival Terminerà tra un'ora Porta a compimento Eeeh Va bene Lo facciamo Se possiamo Altre scelte No Possiamo fare Gioco una partita Neanche Credo proprio Che non riusci Salve Aspettate un attimo Perché la morte Si incontra qua Con Dark Fener Me lo spiegate Izumi Watanabe Oltretutto Gnomi da giardino Mi ricordo infatti di lei Che si incontra Con qualcuno vestito In questo modo Che è Francesco Pellegrini E tutti Siamo un po' Straniti da tutto ciò Eeeh Fatti il selfie Con un cosplayer Assolutamente Ci sono in cosplayer Forza Erika Che stai facendo Vieni qua A farti un bel selfie Con la cosplayer Assolutamente Siamo sempre in uno smile to show Eccoci qua Fatto Benissimo A lui possiamo fare qualcosa A presentazione No possiamo fare sempre Il selfie Ma io volevo Anche Come dire Iscrivermi Se anche non avrei potuto Magari fare niente Perché manca solo un'ora Alla chiusura Mi sarebbe piaciuto farlo Però non pare Questo essere il caso Quindi Chi se ne importa Ah si dai Possiamo anche Sederci qua insieme Perché no Perché ci raggiunge la morte Ecco E magari perché non ci Eeeh Amoreggiamo Così Tanto siamo molto a disagio Quindi chi se ne importa Lei va a lavoro Fra un'ora Quindi ben presto La mandiamo a lavoro Bella stanca E ragazzi Loro sono usciti Per i cavoli loro E' praticamente Un appuntamento romantico E praticamente Questa sim E' incintissima Se non ricordo male Vediamo un po' Aspettate ragazzi Ora pausa 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 Perché Questo mi fa capire Che Michela Longo E si e lei E' bella bella magra La ricordo Come sim Credo abbiano aggiunto Le sim Incinta In giro nel quartiere Credo sia Una Come dire Una certezza Perché lei è palesemente Incinta E io non ho messo Incinta nessuno Quindi Sono sicuro di questo Comunque Tornando a noi La nostra coppietta E' venuta allo Smile show insieme Hanno deciso di passare Un po' di tempo insieme Tanto che l'ha Negato al nostro Alberto E si ragazzi Sarà proprio allo Smile show Che lei prenderà Una scelta Molto molto importante Perché questo Dibattiamo Assolutamente no Perché questo ragazzi Perché appunto Voi avete votato Ma anche il cuore di Eric E' stato rapito Da Manuel Quindi in realtà Ora lei andrà a lavoro E una volta tornata a casa Dovrà spiegare ad Alberto Che dovranno restare Solo amici Perché lei ha fatto Infine la sua scelta E ragazzi Dobbiamo abbandonare Il nostro Manuel Perché è ora Di andare A lavoro Dovremmo avere L'abilità Di carisma Bella A livello 2 Quindi possiamo Anche avere Un minimo di promozione Spero Chi lo sa Intanto la mandiamo Che lei praticamente Distrutta Chi se ne importa Facciamo un bel lavoro Ora sodo Mentre con lui Torniamo a casa E ci sarà un confronto Tra i due ragazzi Perché a questo punto Manuel dirà Quello che sta succedendo Ad Alberto E non credo Lo apprenderà molto bene Quindi siamo tornati a casa Con un Manuel Che è sempre Sempre stanco E con un Alberto Che si sta stiracchiando Tanto che ora Chiacchiereranno i due Quindi facciamo Un bel amichevole Condividi un segreto Anche perché Lui non sapeva Della relazione Con Erika Tanto quanto l'altro Quindi in realtà Erika ha messo il piede In due scarpe E condividere questo segreto Probabilmente non farà Tanto piacere Al nostro Alberto Ve lo posso assicurare Quindi lui si avvicina Lui è stupito Da ciò che ha appena sentito Eh sì Lui è molto flertante In tutto ciò Ma Alberto Non l'ha presa Assolutamente bene Tanto che perfido E possiamo fare Un bel disputa Disputa di musica No Possiamo fare comunque Un'interazione Molto molto cattiva Quindi perfido Urla contro Perché lui appunto Vi ha rivelato Che anche lui Stava insieme a Erika E vi ricordo anche Che con Alberto Leis Era anche scambiata Gli anelli E ancora peggio Come cosa Ma non ci sarà una lite Non ci sarà una lite E siamo pacifisti Assolutamente Io non sono per le liti Per le scenate Eccetera eccetera E soprattutto In questo massiste Emanue Che come vedete È crollato in terra E quindi in realtà Non c'è stato neanche Il confronto Come vedete La barra Si sta già Cominciando ad abbassare Perfido Provoca senza pietà Assolutamente E vi ricordo anche Che Erika È a lavoro E quando tornerà Si troverà di fronte A tutte e due Quindi ci sarà da ridere Davvero La cosa La cosa ovviamente Sta degenerando Ragazzi Continuiamo ad urlare Contro La loro amicizia Che era una buonissima Amicizia Vi ricordo Non sarà più la stessa Perché appunto Sono stati un po' Ingarnati Tutte e due Della stessa ragazza Se vogliamo Ma erano molto Molto amici E il fatto che Si siano nascosti La relazione tra loro Probabilmente Farà la differenza Intanto Lui però La differenza la fa Perché se non lo manda a letto Questo qua Non mi combina più nulla Quindi per favore Vai pure a dormire Intanto Erika Ha guadagnato C'è un 60 semoleon Davvero molto molto ricca Mi dicono E è tornata con i capelli lunghi Visto che è tornata a casa Ma noi Assolutamente Ripariamo al danno E torniamo al nostro look Solito Eccoci qua E ora Lei che è bella stanca Dovrà andare da lui E spiegargli Quello che è successo Quindi Altre scelte Perfido no Anche se in realtà Non è perfido Dobbiamo separarci Ragazzi Davanti a tutti Davanti alla nostra Sara Rinaldi Che forse potrebbe anche Raccogliere i resti Di un Alberto Distrutto Quindi potrebbero essere loro Un'altra probabile coppia Erika Ricci Bianchi Si sta separando Da Alberto Dodaro Guardate un po' La notifica Tutto è successo È successo il fattaccio Altre scelte Altre scelte amichevole Che di diventare Solo amici O meglio Chiedi di essere Solo amici Possiamo? Probabilmente no Vediamo un po' La loro relazione Facciamo un bel chiedi Della sua giornata Guardate un po' Quanto si odiano I due Lui infatti Non sopporta più La nostra Erika Lei ha perso tutto Ma ha deciso di seguire Il sondaggio Ha deciso di seguire Anche quello che sentiva Quindi in realtà Credo proprio che Per quanto sia triste Avrà Spero In futuro La felicità di aver scelto La persona giusta Credo Quindi in tutto ciò Io la manderei a letto Lui è già a letto Perché l'ha distrutto Lei invece sta bene Lei deve andare in bagno Quindi vai Per favore Perché non vanno Di loro sponte ragazzi Io non lo so Non lo so Anche lui deve andare in bagno Detta a quattro persone Di andare in bagno Ne abbiamo solo due di bagno Quindi pensate un po' Quanto disagio c'è in questa casa E che dire Abbiamo infine deciso La persona con i quali Starà la nostra Erika Ricci Bianchi In futuro Costituirà una famiglia Con il nostro Manuel Credo proprio Che il nostro Alberto Troverà un po' di conforto Nella nostra Sara Fatemi sapere ovviamente Che ne pensate Delle altre due coppie E vedremo anche Come sistemare La situazione Con la nostra famiglia Perché abbiamo in sospeso Una litigata Una bruttissima litigata Erika S'è separata dalla famiglia Sta vivendo da sola E probabilmente Non ne vuole ancora sapere Di un riavvicinamento Con loro Ma spero che in futuro Questo si risolverà Al momento però Direi che ci possiamo fermare Così io spero Che questo video Vi sia piaciuto E se così Iniziate a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere Sotto nei commenti Che ne pensate Sotto di me Trovate il pulsante Per iscrivervi A altri due video Io come sempre Vi do l'appuntamento Alla prossima Vi dico Ciao a tutti Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti